La città metropolitana di Napoli annuncia lo stanziamento di 70 milioni di euro per la manutenzione delle strade di tutti i 92 comuni di pertinenza. L'iniziativa per migliorare la qualità della vita dei cittadini dal punto di vista della sicurezza rientra nel più ampio programma relativo ai progetti del piano strategico dell'ente metropolitano. Così ai nostri microfoni il sindaco Luigi De Magistris. Abbiamo voluto fortemente un punto stampa perché è un lavoro che va avanti da tempo quindi non è che oggi c'è una scadenza particolare però siccome è un lavoro impegnativo forse unico in Italia che mette insieme la cooperazione tra il sindaco metropolitano, i consiglieri metropolitani, l'intera macchina amministrativa per un lavoro particolarmente imponente perché parliamo di insomma una somma complessiva impegnata circa. No 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 parliamo complessivamente del piano strategico di 300 milioni di euro. Cominciamo a parlare oggi delle strade dove si tratta di circa una sentantina di milioni di euro ed è bene che i cittadini dell'area metropolitana cioè 92 comuni, 3 milioni e mezzo di abitanti, quasi il 60% della popolazione campana sappiano come la politica investe correttamente nel loro interesse risorse che ci siamo andati a prendere in modo assolutamente non facile. Quindi si tratta di assi viari assolutamente fondamentali per la mobilità tra le varie arterie cittadine di tutti i comuni della città metropolitana, oggi parliamo di strade, poi affronteremo il tema delle scuole, poi affronteremo il tema dei parchi, quindi faremo una serie di conferenze stampe e incontri mirati in modo che tutti sappiano e possano anche verificare che poi queste cose partono, queste cose si fanno perché poi sarà ai comuni utilizzare correttamente le somme che la città metropolitana destina a loro e poi ci sono comunque i finanziamenti che la città metropolitana per suo bilancio garantisce poi per tutte le materie di competenza della città metropolitana. Cioè il piano strategico è qualcosa in più, è un'opportunità, è una certezza che viene data ai comuni che spesso hanno problemi di cassa e che non possono realizzare parchi, non possono riqualificare strade, non possono mettere in sicurezza le scuole. Sindaco, un lavoro sulle strade importante si presenta oggi per dare respiro e per far vedere concretamente il lavoro e che la città metropolitana è presente e dà risposte a tutti i cittadini dell'area metropolitana. Quello che ho detto esattamente adesso, sì. Per quanto riguarda la città di Napoli ce ne sono diversi di strade. Sì, è inutile che mi fate fare a me l'elenco, ve lo diamo l'elenco, se no diventa inutile fare le schede, se questa è la domanda.